Ma come mi pongo rispetto a questo voto? Mi pongo con un grandissimo senso di sconcerto perché davvero non si capiscono le ragioni politiche per le quali queste forze politiche hanno votato contro un emendamento che a noi del Movimento 5 Stelle e altre forze politiche sembra di assoluta coerenza perché va nella tutela e nella protezione dei giovani nel loro ingresso nel mercato del lavoro. Oggi non soltanto in Italia ma in Europa abbiamo un tirocinante su due che approccia questo tipo di rapporto di lavoro o a titolo gratuito o con dei rimborsi spese assolutamente irrisorie. E quindi noi crediamo che sì, a livello europeo è necessario prevedere un quadro normativo per un'equa ritribuzione dei giovani che entrano nel mercato del lavoro, ma abbiamo visto nella pratica che questa equa ritribuzione non esiste. I giovani entrano con tirocini gratuiti e quindi questo noi crediamo sia inaccettabile. Noi dobbiamo accogliere i giovani nel mercato del lavoro quando entrano con entusiasmo, con impegno, con voglia di fare e non possiamo mortificarli con delle prestazioni di lavoro effettive che effettivamente appunto prestano senza essere retribuiti o addirittura a costo zero.